Cestini che vomitano rifiuti, escrementi e buste di preservativi. Questa mattina, a 2 agosto, nel Parco Giochi di Sant'Anna in via De Gasperi regna il degrado e se ne sono accorti anche gli abitanti del luogo, che esasperati da questa situazione hanno segnalato lo stato di abbandono che stanno vivendo. Spazzatura, escrementi, profilattici, fazzolettini e bottiglie di alcolici, segni di bivacchi notturni così tanti da farli evitare di portare i propri figli al parco. I cittadini, questa è la segnalazione che si è mandata a verificare, chiedono più attenzione da parte dell'amministrazione comunale, in modo da evitare che i bambini siano costretti a giocare tra i rifiuti.